La Regione Campania ha accolto la richiesta del distretto turistico Borghi dell'Irno e dei Monti Picentini, che comprende 14 comuni, ed ha trasmesso il relativo decreto al Ministro Franceschini per la firma. A Cerno, Baronissi, Bellizzi, Calvanico, Castiglione dei Genovesi, Fisciano, Giffone Seicasali, Giffone Vallepiana, Montecorvino Pugliana, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, San Cipriano Picentino, San Manco Piemonte, potranno così partecipare alla progettazione nazionale e regionale per lo sviluppo del turismo. La carica di Presidente è stata affidata a Pietro Daniello, coordinatore del Consorzio delle Proloco Copisa.